Il segnale raffigurato si trova su strade extraurbane. Falso! Il segnale raffigurato si trova solo su strade urbane e non extraurbane. Il pannello integrativo raffigurato indica che in caso di pioggia si può trovare del fango sulla strada. La risposta corretta è vero. Ricorda che se il video ti sta piacendo devi lasciare un like. L'uso delle luci di posizione è obbligatorio di notte durante la sosta fuori della carreggiata? La risposta corretta è falso. L'uso delle luci di posizione non è obbligatorio di notte durante la sosta fuori della carreggiata. La sospensione della patente è disposta quando si circola con patente illeggibile o deteriorata. La risposta corretta è assolutamente falso. Il segnale raffigurato preannuncia che non si ha diritto di precedenza nella confluenza? Stai attento. Il segnale raffigurato preannuncia che si ha diritto di precedenza nella confluenza e non il contrario. Quindi falso! Alla fine del quiz ricorda di scrivere quanti errori hai fatto. Se un ferito della strada è in stato di incoscienza bisogna metterlo in posizione semiseduta. Stai attento. Se un ferito della strada è in stato di incoscienza non bisogna metterlo in posizione semiseduta, bensì bisogna metterlo in posizione laterale di sicurezza. La risposta sarà quindi falso. Conosci i dieci segreti per prendere il foglio rosa? Grazie. 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 Grazie.